Eccoci tornati cari telespettatori, buon pomeriggio, allora noi torniamo a Roma buonanotte praticamente perché è buio, il tempo è un po' uggioso, ma ci siamo noi che portiamo il sole Assolutamente sì, e portiamo anche la musica, speriamo, anche un po' di buon umore con il sole 18, o meglio 17, 05, parliamo dei game, parliamo con uno dei game, parliamo con Andrea Galderisi Ciao Andrea, grazie di essere qui con noi Grazie di avermi qui Hai fatto un bel viaggio? Sì, ieri in macchina, con calma sono venuto giù, ho avuto il piacere di fare benzina autostrada che ha rovinato un po' il viaggio Benzina o diesel? Forse è peggio diesel adesso Diesel, scusami E allora come me? A 2,50? A 2,50? A 2,3? No, a 2,50 Sì? Ho sbagliato, comunque Non te lo volevo ricordare Però, però Condividiamo lo stesso destino Condividiamo lo stesso destino, però no, Roma è stupenda Beh, va bene anche viaggiare in macchina, cioè ormai è una cosa che a parte verso le classiche vacanze estive per lavoro è difficilissimo che ci si sposta in macchina oramai per questione logistiche di tempo e cose Sì, ma anche da un punto di vista, come dire, di comodità, di comfort, chiamolo così è molto più comodo magari viaggiare col treno Sì, perché fai centro città, centro città, però poi ti devi muovere Con la macchina invece no? Ti prende Sei libero Sì, a me la macchina aiuta tanto Perché mi piace guidare, sai, ascoltare tanta musica Io, noi, GEM, siamo due macchine da musica, no? Cioè sempre cerchiamo di ascoltare roba nuova E la macchina aiuta perché radio su radio, playlist Spotify, no? Quindi è un momento che ci serve Sei più in macchina da playlist Spotify o da radio? Allora, io sarei un po' più Già sorride Più boomer, più boomer old school sarei più da radio Però ammetto che Spotify regala gioie Perché scoprono dei gruppi che non E quindi è uno stimolo continuo, no? Vai a momenti, cioè come me immagino Io ho dei momenti in cui devo ascoltare solo la radio Magari in particolare i momenti della giornata Esattamente Invece momenti in cui c'è bisogno proprio di quella canzone lì Di quelle vibes Quando si è incazzati i neri Perché parte Marilyn Manson, per esempio Perfetto Sono i momenti quelli che ti ricordi Ci sta, ci sta Senti, allora, GEM Mi hai detto nel fuorionda che avete giocato con il socio Che ricordiamo si chiama, nome d'arte? Camo Giottero Brando Ok, con Camo Avete giocato anche sul fatto di un po' inglese, un po' italiano, un po' internazionale Perché voi cantate anche non in italiano Sì, noi cantiamo in inglese, scriviamo, componiamo in due E alcune le canta lui, alcune le canto io, altre le cantiamo insieme Sia in inglese che in italiano Quindi abbiamo detto, va, GEM o GAM In Italia possono dire GAM o GAM E in Inghilterra o dove sarà possono dire GAM o GAM Quindi è un nuovo ambivalente che avete voluto dare a questa vostra band, possiamo chiamarla? È un duo però, band, sì, adesso è una cosa che ricorda molto gli anni 80-90 Sì Il duo, no? Però noi ci troviamo Stiamo tornando tantissimo Noi ci troviamo bene in due Come si scrive in due? Questo è un vantaggio, no? Perché Allora, succede che a volte io sono, mi viene l'ispirazione E viceversa Mettiamo giù Scriviamo e poi ce le mandiamo Ci mandiamo il progetto E lui lo completa E viceversa Magari lui mi manda piano voce E tu aggiungi E io metto la chitarra e la batteria Perché suoni? Io sono chitarrista e cantante Sì E lui è pianista e cantante Però lui fa tutta la parte Beh ragazzi, avete un po' insomma tutto Dai, avete tutto Ambia scelta Sì, a volte facciamo anche dei pezzi di batteria e basso Però poi ci sono i bassisti veri e i batteristi veri Senti, allora io vi farei ascoltare subito 30 secondi Il video ce lo teniamo fra un po' Vai Io vi seguo Tanto adesso vediamo un pezzetto di video E sentiamo Abbiamo in tre ispezioni i tre ritornelli fondamentalmente Che sono quelli Esatto Quindi uno l'abbiamo già mandato Manuel, ci sentiamo anche l'altro ovviamente Eccolo qua Senza meta È tutto un camminare senza meta Non senti questo odore di paura È tutto un camminare alla cieca Non senti questo odore di ferita È tutto un camminare alla cieca Per dove siete senza meta? Vuoi sapere come nasce questa? Sì, sì In macchina magari No, in pandemia Ok Abbiamo vissuto, penso tutti, anche un periodo Essere un po' senza meta Eh, c'era, sì C'è questo È difficile un po' da spiegare Perché ognuno la vive È talmente soggettivo Soggettiva come cosa? Due anni È un horror vacui pazzesco Andrea È un horror vacui, appunto E il significato che volevamo dare Che sentivamo di dare come è nata È il fatto che Vediamo che Allora, la meta bisogna averla Specialmente nei periodi difficili Perché è facile perdersi via Ognuno i propri demoni E la pandemia è stato un momento dove O l'aggredivi e reagivi O ti buttavi giù Quindi Se sentite la base È una base molto allegra Se leggete le parole Sono un po' più profonde Si parla di ferite, infatti E quindi nasce dal fatto di dover Dover migliorarsi Anche nei momenti di difficoltà E non Gettare la spugna Sì perché poi ogni giorno Ogni cosa ti porta Poi ad essere migliore Se lo vuoi Cioè nel senso Se vuoi arrivare a sera E dire ok Ho fatto questo gesto Quest'azione Ho compiuto Mi sento migliore Sono migliore Mi sono migliorato Ho portato qualcosa Nel mio bagaglio Sì Fondamentalmente è quello E penso Al di là della pandemia è tutto Quella è stata una bella lezione Ma penso sia così In generale Cioè Sei tu A fare Che sono le frasi più cliché Però è la verità Però insomma i cliché sono veri Alla fine i cliché sono veri Che sei tu A crearti Chiamano destino A volerti migliorare O peggiorare E ci sono momenti di debolezza No? È un rollercoaster Sì E quindi bisogna essere Bisogna cercare di tirare fuori il meglio Di se stessi Questo è senza meta Ok Mi raccontavi sempre Ci raccontavi sempre Nel fuori onda Che questa qui Perché io in apertura L'ho paragonata Ai subsonica E tu hai detto Ok non solo i subsonica Anche i muse Ma allora Ti dico Noi abbiamo influenze Ovviamente Nasciamo da rock Quindi partiamo Da quando siamo piccoli Noi ascoltiamo Le Zeppelin Ascoltiamo Tutte le band Anni 60-70 Poi arrivando agli anni 80 Quindi al metal Arrivando ai 90 Dai Coldplay Ai Muse Ai Chili Peppers Agli Oasis E arrivando anche ai subsonica Ovviamente Quindi subsonica Fanno parte Della nostra Crescita musicale I Blue Vertigo I Muse Che anche loro Sono a primi anni 2000 Quindi abbiamo un insieme Di queste influenze Ma fa piacere essere paragonati O fa arrabbiare Perché poi la musica Deve essere anche originale Ma è questo il bello Che c'è una gran differenza Tra plagiare O scrivere Come viene Noi facciamo musica Che a noi viene sincera Così E ovviamente A noi fa piacere Essere paragonati A mostri sacri Come il subsonica E i Muse E il Blue Vertigo Quindi è Sì Benvenga E funziona Una cosa del genere Ora ti faccio arrabbiare però Vai Ti faccio arrabbiare Poi arrabbiare anche io in realtà Hai nominato Dei mostri sacri Della musica Che siano contemporanea O più datata O semplicemente italiana O estera Sappiamo ancora Apprezzare La buona musica Nel nostro paese Io penso che Allora Siamo La razza umana È in evoluzione In meglio o in peggio? Non sta a me a dirlo Su quale strada siamo? Ce l'abbiamo una meta? Eh per alcuni Per alcuni siamo in meglio Per altri siamo in peggio Dipende da come Dipende dai punti di vista Magari in meglio Per quanto riguarda L'evoluzione Per quanto riguarda Comunque il processo Di evoluzione tecnologico Però in peggio Perciò che questo processo Di evoluzione Tecnologica proprio Stesso sta portando Beh sicuramente Adesso sono cambiate Un po' le cose Anche a livello musicale Ovvero Tempo fa Dovevi prendere una chitarra E studiare Prendere un basso E studiare quello che è Adesso hai un iPad Dove hai un programma Dentro Che è gratuito E tu schiacci Ha già dei tools Si chiamano così giusto? Sì Predefiniti Dove magari c'è Puoi cliccare semplicemente Mettere insieme quelle cose E puoi fare tranquillamente Un brano Questa è una gran cosa Che ci sia Questa possibilità Perché probabilmente Se la si usa bene È una grande evoluzione Se la si sa usare Se la si sa usare Un po' come social Perché poi Lo possono usare tutti E quindi Non tutti possono fare tutto Ragazzi È brutto da dire Ma è così Poi c'è chi è nato Per fare determinate cose E chi è nato Per farne altre L'importante è scoprire Che ognuno abbiamo Ognuno di noi Ha un talento Dobbiamo solamente Essere fortunati E bravi A trovarlo E quando è il prima possibile Così lo possiamo coltivare Alimentare Lavorare Sì E riuscire Coltivarlo E dare il mille per mille Mai star fermi Adesso Mi è stata detta Questa frase Ultimamente Che è Del 100% Della musica Oggi L'80% È social E il 20% È musica Beh lo vediamo Tranquillamente Da quelli che sono I social Che vanno Nella stragrande dei casi Tra i giovani Ovvero social Come TikTok Dove magari A me è successo Mi è capitato Di vedere Che brani Che magari Erano usciti Negli anni 90 Negli anni 80 Sono stati rilanciati Ad esempio Rasputin De Boniem De Boniem Perdonami Esatto Proprio quello Che l'anno scorso È andata completamente In tendenza A canzoni che non si sentiva Più da quanto Da tanti anni Ma anche Adesso su TikTok Da un paio di mesi A sta parte Un bel po' di mesi C'è Another Love Di Tom O'Dell Che adesso tutti la mettono Nella storia I ricordi Quella canzone lì Che è un gran pezzo Secondo noi La canzone Lady Gaga Di Mercoledì Adams Anche Sì Quella però è recente Perché è stata usata Però questo lo dicevamo Un po' State rilanciate Esatto Oltre che a rilanciare Si crea della musica E si crea Insieme un balletto Un balletto da fare Sul TikTok Così che diventi virale Così che le persone Guardando il TikTok Scorrendo anche I reel di Instagram Possano ascoltare Quella canzone Farla propria Entra in testa La canticchi La giri Ci fai la storia Ci fai il TikTok E diventa virale Si fa così Voi però Non fate questo genere Noi ci concentriamo Più sul lavoro Di composizione Di andare in studio Non pensi al balletto No Non pensiamo ai balletti Capito Però non è detto Che sia sbagliato Giusto Noi abbiamo Il nostro modo Di fare la musica Quello che vogliamo Scrivere Vogliamo trasmettere Lo scriviamo E speriamo ovviamente Di trasmetterlo E non possiamo dire Che sia sbagliato Quello che fanno I tiktoker A noi risulta strano Magari Perché Magari anche Venendo da una vecchia scuola Esatto Dove l'artista È l'artista Che compone una canzone Ma non lo fa Magari per diventare Virale sui social Ma lo fa proprio Magari Per una propria esigenza Personale Di mettere nero su bianco La propria arte Di metterla in musica Magari invece Ci sono questi ragazzi Che ad oggi Fanno anche delle cose Come dire Di uno spessore culturale Di un'elevatezza Magari musicale Inferiore rispetto Al lavoro di un artista Completo Il quale comunque Studia Ci lavora tanto Su quei testi E su quei brani Basta soltanto Spaccare Va diciamo Chiamiamo così Usiamo questo termine Con pochissimo E il lavoro Di un artista Magari viene Viene preso Un po' sotto gamba Rispetto a questi Fenomeni Chiamiamoli così Dal momento Che l'obiettivo È sfondare Spaccare Già metti In secondo piano Secondo me L'arte La qualità Perché vuol dire Che segui già Quello che sta funzionando Che se ti viene spontaneo È bingo No? Se già Che forzi una cosa Le strade Le strade già cambiano No? Facciamo così Ascoltiamo Vediamo il videoclip Ascoltiamo Senza meta E poi Successivamente Continuiamo a parlare Parliamo anche Dei talent Continuiamo a parlare Di social No Però dai Dei talent Sicuramente Perché tu hai detto Prima abbiamo appena parlato Di Real TikTok Musica Che entra in testa Diventa virale Quello è il segreto Quello è il giochino Senza meta Mentre Che entra in testa Eppure non ho visto Nessun real Non ho visto Nessun TikTok Quindi è bingo Quello che dicevi tu Sì Il risultato è questo Ora vedrete il video Non ascolterete solamente Trenta secondi Ma tutta la traccia Quindi entra in testa Anche a voi E capirete Che si può fare bingo Anche senza Tiktok Vediamo se piace Vediamo se siamo pronti Anche ma certo Se volete fare un balletto Fatelo Ok Magari ci pensiamo Anche nel fuorio Adesso studiamo Un balletto GEM Senza meta